Ciao a tutti ragazzi di Milan Inside e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti in questo primo episodio del Fact Time. Che cos'è il Fact Time? Sostanzialmente sono domande e risposte da parte mia. Alle domande che mi avete fatto voi su Instagram, sul profilo Instagram di Milan Inside, avete trovato un box all'interno delle storie nel quale dovevate farmi una domanda sia personale sia che riguardasse il Milan, alla quale poi io appunto oggi ne ho selezionate un paio e andrò a rispondere. Mi raccomando rimanete sintonizzati su tutti i nostri social che trovate i link in descrizione, in particolar modo a Twitch dove facciamo live reaction a tutte le partite del Milan e in futuro arriveranno anche altri contenuti, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati. Allora, prima domanda di oggi ce la fa il nostro Miki Twitch, il profilo Twitch del nostro Miki, fondatore di Milan Inside, che ci chiede, sogno nel cassetto. Allora Miki, sogno nel cassetto, ne prendo due, i principali, sono uno un sogno personale, il secondo un sogno da tifoso milanista. Quello personale sarebbe quello di lasciare il lavoro che ho adesso, ovvero quello che mi dà i soldi per mangiare sostanzialmente, per fare questo, per trasferirmi sul web, quindi iniziare a lavorare sul web e in un futuro magari iniziare a lavorare, perché no, a stretto contatto col Milan, quindi mai smettere di crederci, bisogna impegnarsi tantissimo, però veramente sarà l'ultima cosa che farò a smettere di credere in questo sogno qua, perché ci terrei veramente tanto. Invece il sogno nel cassetto da tifoso milanista ovviamente è quello di tornare a vedere il Milan vincere la Champions League e il campionato sostanzialmente, quindi sì, questo qua è il sogno da tifoso milanista. Passiamo alla seconda domanda, Vallatin90, chiedo già scusa se leggerò male, dei nomi, in caso correggetemi qua nei commenti, Dovessi scegliere un attaccante per rinforzare l'attacco, per chi opteresti? Allora, considerando che l'anno prossimo molto probabilmente Zlatan Ibraimovic comunque rinnoverà ancora un anno con noi, io, ovviamente ci sono tanti giocatori, ma quelli sono sogni nei cassetti per il momento, ritornando alla domanda di prima, perché bisogna considerare tante cose, bisogna considerare la disponibilità economica, bisogna considerare se arriviamo in Champions League, bisogna considerare tantissime cose, ovviamente i sogni nel cassetto sono i soliti nomi, sono nomi inarrivabili ovviamente, come Mbappé, Werner, quella gente lì, però quelli li lasciamo stare, perché sono sogni quelli. Un attaccante che a me non dispiacerebbe sinceramente, che sarebbe il momento che potrebbe fare il passo, il grande passo per arrivare in una grande squadra, ed essendo anche tifoso lo vorrei ancora di più, sarebbe Belotti. È un parere personale, ragazzi, Belotti è un attaccante che fino a pochi anni fa non mi convinceva, invece adesso sta dimostrando veramente di trascinare un Torino che è ai minimi termini, senza offesa per i tifosi del Torino, però sta dimostrando di avere veramente una gran forza. Quindi un Belotti da tenerli comunque affiancare a Ibra, poi abbiamo visto che comunque Ibra con espulsione o comunque qualche acciacco, qualche partita all'assalta, comunque da far giocare anche titolare, non sarebbe male per poi continuare a essere il titolare del Milan. Comunque ragazzi, aspetto anche i vostri pareri qua nei commenti. Prossima domanda ce la fa Miki, sempre il fondatore di Milan Inside, in vista della prossima stagione che acquisti faresti per migliorare la squadra. Allora, ho preso anche questa domanda qua, perché quella di prima mi chiedeva di un attaccante, mentre questa più nel generale. Allora, Più in generale io direi di sperare che Donnarumma rinnovi e che rimanga. In difesa, ovviamente, come penso tutti sarete d'accordo con me, Tomori è necessario riscattarlo, è fondamentale per creare una base veramente solida della squadra. Quindi innanzitutto concentrarsi sul riscatto di Tomori. Successivamente poi Calabria quest'anno a me è piaciuto tanto, quindi vediamo adesso come rientrerà da questo piccolo acciacco che ha avuto. Comunque un altro anno con Calabria io lo farei se rimane a questi livelli qua. A centrocampo, centrocampo un centrocampo che si ben asserbe molto bene, molto bene, quindi non so se mi focalizzerei tanto su quello, ma mi focalizzerei più che altro sugli esterni. Più che altro perché, ok, Rebic, Saleemakers, Brahim Diaz, Castieco, serve un'ala di diamante, come un termine inventato al momento. Un'ala comunque abbastanza esperta, non ho nomi in mente purtroppo, perché è una situazione abbastanza tosta. Quindi io punterei a migliorare tanto la fase gli esterni, ok? Già a me, quando, non so voi, ma già a me quando era tornato il nome di un possibile Deulofeu, un ritorno al Milan, mi piaceva veramente tanto. però comunque bisogna, ci sono troppe variabili da vedere, troppe variabili di Champions, fattori economici, quindi purtroppo nomi non posso farli, perché a parte che non ne ho mente, perché sarei in difficoltà a farli. Però comunque migliorerei sicuramente la fase offensiva laterale, gli esterni, quindi non tutti. Magari prenderne uno, ma di sostanza, di sostanza. E poi la punta, prenderei appunto, come detto prima, un Belotti. Prenderei un Belotti, sinceramente. La prossima domanda invece ce la fa il nostro Mirko, che ci chiede progetti futuri. Progetti futuri, in questo momento così difficile di pandemia, l'unico progetto futuro che mi viene in mente, è quello di appunto, ricollegandomi al sogno del cassetto, è proprio quello di impegnarmi, cercando di portare contenuti fatti bene, giorno per giorno, e di migliorarmi giorno per giorno, per lasciare il mio lavoro, e iniziare a lavorare qua sul web. Prossima domanda, ce la fa C.Fusco, da dove è nata la tua passione per il Milan, o per il calcio in generale? Allora, questa è una bella domanda. La mia passione innanzitutto per il Milan, è nata da mio nonno, e da mio papà. Da mio nonno però da parte di mamma, quindi non collegato a mio papà. Perché da piccolo ho iniziato a farmi vedere subito, le videocassette, le registrazioni, delle partite del grande Milan, quindi Gullit, Rijkaard, Van Basten, e tutti quei fenomeni lì. E mio papà, anche perché mio papà ha iniziato a portarmi allo stadio, mio papà ha iniziato a portarmi allo stadio, a farmi vedere Shevchenko, Kakà, Pippo, Gattuso, Sedorf, Nesta, Maldini, Dida, insomma tutti, tutti. E da lì è scattato un qualcosa la prima volta che sono andato a San Siro. Prima volta che sono andato a San Siro, ero un Milan-Chievo, Milan-Chievo, e, finì, 1-0, gol di Kakà, e, comunque lì, mi è scattato qualcosa dentro, per il Milan, un vero amore che tuttora dura e non finirà mai, perché questo amore qua ti entra dentro e non se ne andrà mai. Poi per il calcio in generale, anche lì sono un grande appassionato, io comunque di calcio, non è che solo Milan, però comunque sono un grande appassionato di calcio, quello soprattutto è nato quando ho iniziato a giocare. Ho iniziato a giocare all'età di 5 anni, e purtroppo non ho fatto strada, però mi sono veramente innamorato del calcio a 360 gradi, quando proprio ho iniziato a giocarci. La prossima domanda invece ce la fa il buon Jack, che ce la fa tramite messaggi, perché appunto sono due domande. Secondo te, perché il campionato italiano è ancora così distante dai migliori campionati europei? La seconda invece è cosa serve per ritornare il campionato sostanzialmente, per ritornare a essere il campionato d'eccellenza come nei primi anni 2000. Allora Jack, questi ovviamente sono tutti i pareri personali, non voglio colpire nessuno, sono solo pareri personalissimi. Allora, il campionato italiano secondo me è ancora così distante dai campionati europei maggiori, a parer mio per la qualità di gioco, ok? Ci sono, io prendo adesso come punto di riferimento la Premier League, che a parer mio personale è il miglior campionato europeo che ci sia. Parere personalissimo. Se paragoniamo Premier League e Serie A, capite che anche le squadre che sono lì, che lottano per la retrocessione, hanno un gioco che a una squadra di Serie A di metà classifica gliene darebbero tre. Sostanzialmente è la qualità del gioco. Adesso non voglio criticare nessuno, è un parere personale. Io andrò a parlare adesso solo di una tipologia di gioco, non di squadre, non di niente. La tipologia di gioco di Antonio Conte, ok? Quindi non sto parlando di Inter, sto parlando dell'allenatore Antonio Conte. Ha vinto tanto, ok? Ma ha una tipologia di gioco che a me non piace personalmente, perché gioca di ripartenze, gioca lanciando su un uomo, ed è primo in campionato a più 11 in questo momento, ok? È un gioco che in Europa non va e si è visto. Un gioco così che è primo in Italia a più 11 ti fa capire veramente tante cose. Un gioco del genere in Premier League sarebbe, adesso non lo so, però secondo me sarebbe sotto la metà della classifica. Perché il gioco primo in Serie A è un gioco che in Europa non va. Quindi per rispondere alla prima domanda, secondo me è la qualità del gioco. Invece per la seconda domanda sostanzialmente ti posso rispondere ancora così, perché se volete considerare i nomi di campioni, alla fine ci sono in Serie A. Lukaku, Ibrahimović, Cristiano Ronaldo, Ribery, ci sono i nomi di grandi campioni in Serie A. Quindi non è questione del fatto che eh no ma i campioni sono tutti in un altro campionato, in Serie A non ce n'è neanche uno. Sostanzialmente è sempre la qualità del gioco. Ok, in Europa è vero che magari qualche partita, magari le altre squadre un po' ci temono per la storia più che altro che il club ha avuto. Però è la qualità del gioco. Io sinceramente sarò di parte, però un po' di gioco quest'anno io lo sto vedendo da parte del Milan. Cioè le azioni comunque che stiamo chiudendo in queste giornate qua e che segniamo, guardate le azioni che abbiamo fatto ragazzi ieri contro il Parma. Sono azioni molto belle, gioco veloce, 1-2, inserimento, tiro, gol. Rispetto ad altre squadre che vincono sì, ma con un gioco che boh. Quindi sostanzialmente la mia risposta a entrambe le domande è la qualità di gioco. Passiamo alla prossima domanda che ce la fa Roncamp66 spero che il nostro portiere rimanga al Milan. Allora, questo è un discorso molto delicato, molto 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 delicato, sarebbe da stare a parlarne qua per ore. Il punto è questo, il punto è che anch'io spero che Donnarumma resti, da quello, dagli ultimi rumors, poi fonti non attendibili, attendibili non si sa, però dagli ultimi rumor sembrerebbe che Donnarumma vuole rimanere al Milan, sembrerebbe aver avuto un diverbio con Raiola, perché Gigio si è stufato, vuole accettare la proposta del Milan perché lui vuole restare, mentre Raiola ovviamente fa la sua parte, vuole guadagnare e quindi sostanzialmente gli ha negato questa possibilità se il Milan non accetta quello che propone lui. Quindi questo famigerato stipendio da cifre esorbitanti. Quindi è una speranza che bene o male tutti abbiamo e speriamo che succederà sostanzialmente, speriamo che rimanga Gigio. Andiamo alla prossima, se non ultima domanda, domanda di Dennis, anche lui collaboratore di Milan Inside. Che partita dobbiamo aspettarci oggi? riferita alla partita col Parma. Dopo aver visto la partita ovviamente è facile parlare, però anche ieri, prima della partita, io dicevo e speravo di vedere una partita come è stata fondamentalmente nel primo tempo, perché poi nel secondo tempo alla fine è successo il patatraghe delle espulsioni di Ibrahimovic che tra l'altro, come avete visto nel video reaction di ieri, ho provato a caricare le prove televisive che sono riuscito a trovare e quindi l'espulsione di Ibrahimovic è avvenuta per un mi sembra strano, mi sembra abbastanza eccessivo da parte di Maresca. Quindi, vabbè, quindi per rispondere a questa domanda mi hanno risposto i ragazzi in campo. Una partita, speravo non prendessero sotto gamba la situazione del Parma, speravo iniziassero la partita super grintosi e speravo appunto di portare a casa i tre punti ed è così è stato. Quindi niente ragazzi, io spero che questo primo episodio del Fact Time vi sia piaciuto, io spero di vedervi spesso connessi ai nostri social, spero di vedervi in tanti su Twitch, vogliamo crescere, vogliamo creare contenuti molto belli anche per voi, quindi mi raccomando seguiti su tutti i nostri social, io spero che il video vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, a lasciare un mi piace e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao a tutti.